attenzione al destro di Marrone di fianco a lui c'è Siligardi che potrebbe provarci con il sinistro tutto pronto va Siligardi pallone che spiove la rete rete il vantaggio dell'Allas al 94esimo il gol di Siligardi butta giù il muro del Milan e tiene ancora per qualche ora il Verona in Serie A incredibile il Vente Godi un'altra fatal Verona per il Milan non si scompone Setti Verona in vantaggio al 94esimo e Verona diciamolo pure meritatamente in vantaggio grande punizione di Siligardi non può nulla questa volta Donnarumma che aveva preso tutto quello che gli era capitato nella propria area di rigore pallone che bacia la parte inferiore della traversa e va a finire in porta Miro direlli che divpro Gemini no no chiamate che Grazie.